Spunti di vista, torniamo a parlare del mercato libero dell'energia, perché sono state molte anche le sollecitazioni che abbiamo ricevuto. Lo facciamo insieme con Chiara Rubiani, presidente di Feder Consumatori Arezzo, che ringraziamo per essere di nuovo qui presenti in studio con noi, per un argomento che interessa, dobbiamo dire, tutti. Presidente, l'argomento che ci si domanda e che molti consumatori si chiedono è mercato libero o libero abuso? Buongiorno a tutti. È arduo rispondere. Viene da dire purtroppo libero abuso. Noi ovviamente vediamo la parte peggiore, vediamo gli abusi, vediamo le scorrettezze commerciali, che vi assicuro sono tante, sono veramente tante. E riceviamo tante chiamate, tante sollecitazioni dalle persone che si trovano strette in contratti o in situazioni estremamente sgradevoli, di stacchi di fornitura, richieste di pagamento esorbitanti, costi non pattuiti o non esattamente spiegati quando veniva proposto il contratto, anzi omessi, o addirittura omessi, quindi persone che pensavano di aver stipulato un certo tipo di contratto estremamente conveniente, in realtà il contratto si è rivelato essere tutt'altra cosa, estremamente oneroso ad esempio. Quindi la cosa importante, ci sembra di capire, è comprendere bene quelle che possono essere anche le insidie che esistono nei contratti. Assolutamente sì, dobbiamo ricordarci che molti di questi contratti vengono proposti in maniera omissiva, in maniera incompleta, in maniera forviante, assolutamente forviante, prospettando solamente informazioni parziali, in maniera che la persona possa venire allettata e non percepiscano, gli venga spiegato invece, che è doveroso ed obbligatorio, esattamente quali sono i costi, eventuali penali, perché ricordiamoci, dall'anno scorso sono state introdotte per la prima volta nel mercato elettrico, ad esempio, delle penali in caso di recesso anticipato. Una cosa che è passata quasi inosservata, eravamo abituati a un mercato completamente libero, si è ben pensato da parte del governo di introdurre delle penali in caso di recesso anticipato, ad esempio. Ecco, Presidente, l'antitrust, di recente anche attraverso alcune uscite sulla stampa, ha definito come un vero e proprio tsunami quello che sta avvenendo nell'ambito dell'energia proprio a danno degli utenti. Ora, c'è da chiarire anche un altro aspetto, alcuni contratti vengono fatti telefonicamente, la telefonata, è opportuno ribadirlo, impegna il consumatore? Sì, ancora nella maggior parte delle persone non c'è questa percezione, ma esiste il contratto telefonico, è assolutamente efficace, molte persone ci dicono ancora, ma io non ho firmato nessun tipo di contratto, è purtroppo però, la telefonata è essa stessa la stipula di un contratto. Quindi noi raccomandiamo massima allerta quando si risponde alla telefonata, ricordiamoci che esistono operatori non corretti, esistono call center non corretti, che cercano di estorcere un sì, di registrare il sì. Ci sono tutta una serie di accorgimenti, di punti, in cui le persone devono assolutamente prestare attenzione. Ovviamente la solita raccomandazione, la cosa più importante è stipulare un contratto, la cosa migliore sarebbe stipulare un contratto con un operatore che ha uno sportello fisico, perché innanzitutto è possibile visionare in precedenza magari le condizioni contrattuali, quindi farsi dare prima le condizioni contrattuali e poi successivamente firmare appunto il contratto. La telefonata, ricordiamoci di non rispondere frettolosamente sì, perché il sì verrà registrato. Altra cosa a cui dobbiamo prestare assolutamente attenzione è non accondiscendere all'esecuzione immediata del contratto, è una cosa che viene sempre sottasciuta. Spesso nella telefonata, che si svolge in maniera molto rapida, gli operatori vi solleciteranno a snocciolare i dati in maniera rapidissima e cercheranno di inserire all'interno dell'esposizione la richiesta di adesione all'immediata esecuzione del contratto. Noi francamente sconsigliamo di prestare molta attenzione e consigliamo di rispondere no. Questo perché? Perché permette all'operatore di far partire immediatamente il contratto senza aspettare i 14 giorni necessari e dovuti, che sarebbero necessari, per poter esercitare il diritto di ripensamento, perché tutti i contratti a distanza e anche il contratto telefonico godono di questa particolarità. una persona può esercitare il diritto di ripensamento entro i 14 giorni. Se si aderisce alla possibilità di dare immediata esecuzione al contratto, tuttavia l'operatore non dovrà, non sarà costretto ad aspettare i famosi 14 giorni per dare esecuzione al contratto, ma lo potrà fare in maniera anticipata. È sempre valido il diritto di ripensamento, tuttavia esiste un regolamento, non voglio chiamarla norma perché non è una norma, è un regolamento previsto da una delibera rera che permette all'operatore, anche con i confronti del quale si è esercitato il diritto di ripensamento, di richiedere i costi sostenuti. Certo. Ecco, Presidente, mi scusi, chi è che deve vigilare in particolare su questa situazione? Quali sono gli organi deputati al controllo? Allora, gli organi deputati al controllo è l'autorità garante per la concorrenza e il mercato. È stato conferito qualche anno fa, non è più a rera il soggetto deputato esattamente a controllare la corretta esecuzione dei contratti o se il contratto viene stipulato in maniera vessatoria o viene stipulato in maniera, tra virgolette, non corretta. Certo. Non è più a rera, bensì la GCM, quindi l'autorità garante concorrenza e mercato. A rera mantiene tutta una serie di attività di vigilanza nei confronti ovviamente degli operatori e concorrente, una funzione concorrente, però non vigile espressamente su questo aspetto. Ecco, il vostro ovviamente, dobbiamo dire, è un osservatorio privilegiato per capire esattamente la situazione. Sono molti coloro che si rivolgono al vostro sportello per avere chiarimenti, per avere magari anche delucidazioni su quelle che ritengono essere stati degli abusi compiuti ai loro danni. Assolutamente sì, noi vorremmo però intercertarli ancora prima. Spesso le persone, appunto proprio perché ignorano tutti questi aspetti, si rivolgono a noi quando ormai, tra virgolette, la frittata è fatta. Mentre sarebbe estremamente importante che le persone si rivolgessero a Federconsumatori, alle altre associazioni dei consumatori, proprio prima per avere un consiglio. Un'altra cosa che ci teniamo a ricordare alle persone, all'interno della chiamata, ad esempio, sarebbe estremamente importante che le persone non aderissero alla possibilità di non ricevere le condizioni contrattuali. Questa è un'altra pratica non corretta, consentita ma non corretta, che riscontriamo all'interno delle telefonate registrate, che poi dopo visioniamo insieme alla persona nel momento in cui si va a contestare il contratto. Quindi assolutamente sconsigliamo di aderire all'immediata esecuzione del contratto, non aderire assolutamente a non ricevere, non dare adesione a non ricevere le condizioni contrattuali, anche perché solamente con le condizioni contrattuali possiamo verificare esattamente se quello che ci è stato proposto è poi corrispondente al contratto, perché a volte non si riesce a percepire, a volte non viene spiegato bene. E c'è questa tendenza dei call center, quindi di omettere, di scelare quelli che sono le reali clausole contrattuali. Presidente, per concludere ci avviamo ormai alla conclusione di questo spazio. Per quanto le è dato di sapere sulla base dell'esperienza di Federconsumatori, in linea di massima su un numero ipotetico di consumatori, di utenti, quanti sono stati coloro che hanno avuto un incremento, un forte incremento della bolletta dell'energia elettrica? Ponendo per esempio come base a 100, capisco che sono delle intuizioni più che altro da parte vostra, perché evidentemente occorrerebbero dei numeri molto precisi. Ora no, ora non ho sotto la media nazionale, però assolutamente io credo oltre il 90%. Oltre il 90%. Allora, ricordiamocelo, come ho avuto già modo di dire, lo ha rilevato la stessa Rera, il mercato libero non ha portato a un abbattimento dei costi né dei prezzi. Era il motivo per cui i Federconsumatori e anche altre associazioni dei consumatori si sono strenuamente battute perché venisse prolungato il mercato, perché riteniamo che il mercato completamente liberalizzato non fosse adatto o quantomeno il mercato italiano non fosse maturo in questo senso. Noi ringraziamo la Presidente di Federconsumatori, Arezzo Chiara Rubiani, per avere approfondito questi ulteriori aspetti che riguardano il mercato libero dell'energia e quindi la raccomandazione in fondo è quella di prestare la massima prudenza nel caso in cui gli utenti e i consumatori vengano sollecitati con determinate offerte. E non avere timore a far visionare, a chiedere aiuto, consiglio. Un consiglio, le associazioni dei consumatori sono disponibili assolutamente a fare un controllo preventivo prima che possa accadere qualcosa di estremamente spiacevole per le persone. Grazie, grazie davvero a Chiara Rubiani per essere stata insieme con noi. La linea per il momento può tornare alla regia. Grazie.